Ciao a tutti, sono Mary e questa è la seconda puntata della mia serie di video sulla lingua islandese. Oggi parleremo di consonanti e della loro pronuncia un po' strana, ma non troppo. Difatti, la maggior parte delle consonanti in islandese si pronunciano come quelle in italiano. Ma cominciamo subito! BDF si pronunciano esattamente come in italiano, in parole quali ad esempio banana, dir e frau. La G non si pronuncia G come in italiano, ma si pronuncia G come in gatto ad esempio, come nelle parole ghiera, guttfosch e gierafi. In alcuni casi, specie in posizione intermedia, la G non si pronuncia o si pronuncia appena, come ad esempio nella parola dain. La H è aspirata, come ad esempio nella parola hier. La J, come vi ho detto prima, si pronuncia come una vocale, quindi non la consideriamo. La K si pronuncia K come nelle parole caca e kiss. Con la L invece ci si complica un attimino. Infatti, sebbene nella maggior parte dei casi si pronunci come in italiano, ad esempio nelle parole come luova e tala, in alcune posizioni come ad esempio in fine di parola o in posizioni intermedie seguita da consonante, viene palatalizzata producendo un suono che sembra una specie di ch. Come ad esempio in parole tipo velch e mjolk. Sentite come è palatalizzata, velch, mjolk. La lingua va proprio sul palato. M e P si pronunciano come in italiano, nessun problema. Come ad esempio in mamma, niu e prova. La R è palatalizzata e strascicata. Un pochino complicato da riprodurre. Voi potete pronunciarla normalmente come in italiano, vi capiscono lo stesso, però se la pronunciate come la pronunciano loro, diciamo che siete più corretti. Ad esempio in reudur, in ryome, sentite come R, è molto palatalizzata anche questa. In posizioni intermedie invece viene pronunciata normalmente, come ad esempio in keira. Anche la S è come la R, è strascicata e palatalizzata, in parole come sicur e siurus. Vi sono alcune posizioni in cui non è palatalizzata, come ad esempio in haust. La T è come quella italiana, in parole come ad esempio turn e til. Della V vi ho già parlato prima, quindi non c'è bisogno di riparlarne. La X si pronuncia X. In realtà non l'ho mai sentita utilizzare nel linguaggio normale, per lo più in nomi di posti come ad esempio faxafen. L'islandese inoltre ha due consonanti che in italiano non esistono, la F e la Z. Sono in realtà le varianti sorda e sonora di uno stesso fonema, ma che non vanno assolutamente confusi perché hanno due suoni diversi e le troviamo in posizioni diverse. Le troviamo ad esempio in setta, thor, ved, meeth e huseth. Per oggi ragazzi è tutto, nella prossima puntata parleremo di combinazioni di vocali e consonanti non proprio semplici da imparare, ma vedrete che pian piano riusciremo a fare anche questo con un attimino di impegno e di attenzione. Mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non volete perdervi nessun aggiornamento ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e se avete qualsiasi domanda o commento vi prego di lasciarli qua sotto, come al solito vi risponderò al più presto. E ricordatevi che se continuerete a seguirmi, prima o poi anche voi riuscirete a dire io fiat leo cucci. Bisiams! Ciao!